Nella chiesa di San Giovanni la Caritas Diocesana di Pesaro ha presentato sabato il report del suo ultimo triennio di attività, numeri che fotografano emergenze sociali crescenti su tutte quella abitativa che riguarda un quarto delle povertà misurabili nei 2688 beneficiari dei servizi della Caritas, dato ancor più carico di riflessione il fatto che un terzo di questi beneficiari sono minori in condizioni sociali di fragilità, contesti emergenziali che negli ultimi mesi si sono ulteriormente aggravati col caro bollette. Certamente potrebbero essere dei dati freddi perché riportano dei numeri però quello che abbiamo fatto rappresenta un accompagnamento, una vicinanza alla fragilità, alle difficoltà, alla precarietà di tante persone. Il primo che presentiamo è un dato sul numero di persone che incontriamo nei nostri centri di ascolto. Potremmo vedere che nel 2020 abbiamo avuto un picco di presenze e riteniamo per l'iniziativa che abbiamo messo in campo proprio nei mesi bui della pandemia del fondo emergenza lavoro. Nel 2021 i numeri rimangono comunque alti, siamo sopra le 1500 persone. I centri di ascolto che accolgono le persone di cui stiamo parlando sono 28 Caritas parrocchiali e un centro di ascolto diocesano. Un altro dato da sottolineare è rispetto alla cittadinanza e abbiamo notato che guardando il triennio precedente, ovvero 2016-2018, i numeri di accessi in Caritas erano molto più alti. Che cosa è accaduto? È accaduto che probabilmente molte persone di origine straniera hanno lasciato la nostra regione. Questo ce lo dice anche l'osservatorio della regione Marche, per cui la popolazione residente nelle Marche è diminuita di oltre 30.000 unità dal 2014 ad oggi. Quindi forse la nostra regione e il nostro paese non sono più così attrattivi come potevano essere alcuni anni fa. La Caritas ha anche inaugurato l'osservatorio delle povertà e delle risorse, aule nei locali di Via del Teatro che faranno da quartier generale per l'analisi dei bisogni, delle risorse e della progettazione futura di interventi. Attività che saranno gestite in collaborazione con l'ambito territoriale di Pesaro e l'Università di Urbino in un'aula intitolata alla memoria delle attività filantropiche dell'imprenditrice e mecenate Meuccia Severi. È un report che ci pone davanti delle sfide. La prima sfida è quella sulla casa, in cui un beneficiario su quattro di Caritas ha dei seri problemi. Come Caritas partiremo con un'esperienza di Housing First, ristrutturando un appartamento in Via Bovio, grazie all'aiuto della Fondazione Casa di Risparmio, LC Mobili, IBS, l'Unità Pastorale Centro Storico. È un'esperienza che permetterà a De Senza Fissa di Mora di rimanere in una casa per lungo tempo. Un'altra grande emergenza del territorio è legata ai giovani. Più di un terzo dei nostri beneficiari sono minorenni e questo ci fa capire che vivono in contesti di crisi problematici, depressi e dobbiamo assolutamente insistere sui contesti educativi e continuare a lavorare per salvaguardare le famiglie. Per questo abbiamo lanciato un fondo che parte oggi. È un fondo di emergenza per aiutare le famiglie a pagare bollette e affitti ai quali tutta la comunità può contribuire. L'ultima grande emergenza che vogliamo lanciare oggi è il grido degli ultimissimi, coloro che sono fuori da ogni sistema di welfare perché non hanno una regolarità documentale e questo fa sì che non possano neanche trovare lavoro perché non sono neanche soggetti ad avere un contratto di lavoro. Per loro cercheremo di potenziare al massimo le misure di advocacy e di servizi di bassa soglia e per fortuna anche quell'attività di advocacy ha già funzionato perché sia il comune, grazie a un pasto al giorno, ci sta aiutando per sostenere la mensa, sia l'Asur ci ha permesso di dare il diritto a circa 200 persone di vaccinarsi. Viviamo un tempo difficile e in questo tempo abbiamo bisogno di prestare un'attenzione, quella che Papa Francesco definirebbe un'attenzione nei confronti di un virus, il virus dell'indifferenza. Quindi questo tempo, ogni tempo e questo tempo in modo particolare ci chiede di essere attenti ai bisogni e alle necessità degli altri.